Musica Di morire salvato dal medico del 118 di Venafro da stasera quella postazione sarà demidicalizzata Ricci pagheremo noi medici Pasqua insolita torna la neve in Molise e Fiocchi anche sui Sernia città Grande partecipazione e commozione ai riti religiosi del venerdì santo presenza record a Campobasso e Sernia Ogni giorno in Italia poco o meno di due sportelli bancari chiudono definitivamente il Molise, la regione di evidenziare i dati più preoccupanti La rete idrica del Basso Molise registra notevoli danni all'adduttore centrale del Liscione, l'appello dell'assessore Cavaliere Salve, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise Cadono fiocchi di neve in Molise, segno di un inverno che non ha fretta di abbandonare la regione Sarà una Pasqua atipica per i molisani con i fiocchi di neve che hanno raggiunto anche il centro cittadino di Sernia Si registrano i primi disagi alla circolazione ma sono già in azione i mezzi dell'ANAS Come avevano annunciato le previsioni meteo saranno a Pasqua e nevata su gran parte dell'Alto Molise Nelle immagini che vedete il comune di Carovilli su cui stanno cadendo i primi fiocchi di neve Nevicate in corso anche a Frosolone e lungo la statale 17 nei territori di Rio Nero Sannitico e Pizzone dove sono in azione gli operatori dell'ANAS per garantire la regolare circolazione Quelle che state vedendo ora sembrano delle immagini di un periodo dell'anno totalmente diverso Potrebbero tranquillamente essere delle immagini di una capracotta immortalata nei mesi invernali Ma invece sono state filmate proprio questa mattina I fiocchi di neve cadono persino sul capoluogo Pentro a soli 423 metri sul livello del mare Un vero e proprio colpo di coda dell'inverno che regalerà ai molisani un fine settimana pasquale decisamente atipico E a Campobasso in via Principe di Tiemonte i ladri hanno svaliggiato un appartamento in pieno giorno quando i proprietari sono rientrati probabilmente dopo gli acquisti per le feste pasquali si sono ritrovati di fronte all'appartamento messo a soquadro La coppia ha immediatamente contattato la polizia ma all'arrivo della volante i malviventi si erano già dileguati Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di chi potrebbe aver notato auto o movimenti sospetti nella zona La notte scorsa un bambino in preda ad un violento laringospasmo ha rischiato di morire salvato dal medico del 118 di Venafro Da stasera quella postazione sarà demidicalizzata Domenico Marzocchella Alle 5.59 di ieri mattina la postazione del 118 di Venafro la vedete alle mie spalle ha ricevuto una richiesta di intervento di codice rosso un bambino sta soffocando Mattia, 6 anni, sta avendo un violento laringospasmo è una contrazione incontrollata della laringe nei casi più gravi la sensazione è quella del soffocamento i genitori terrorizzati provano ad aiutarlo inutilmente l'unica speranza il soccorso medico d'emergenza con l'autista sull'ambulanza del 118 un soccorritore, un infermiere e un medico in 4 minuti sono sul posto il medico, supportato dall'equip, effettua una terapia in tre step ossigeno, adrenalina e cortisone Mattia è salvo la giovane mamma di Mattia nell'intento di far capire l'importanza del soccorso ricevuto ha deciso di raccontare la sua storia la incontriamo qui presso la postazione del 118 del Santissimo Rosario dove è insieme ai medici che hanno salvato di fatto la vita a suo figlio intorno alle 5 mio figlio si è iniziato a sentire male non riusciva a respirare, tossiva fortissimo e io siccome che già ero pronta ad intervenire io ho iniziato a somministrare una compressa di bentelan, di cortisone però ho visto che il bambino peggiorava sempre di più è iniziato a piangere, si stringeva le manine vicino al collo per dire aiutami, sto soffocando è iniziato a diventare tutto nero ed io mi sono spaventato e chiamato subito il 118 e il 118 tempestivamente sono arrivati la dottoressa così subito è riuscita ad intervenire gli ha messo l'ossigeno al bambino gli ha fatto l'adrenalina cosa che io purtroppo non sapevo perché il bimbo stava veramente male male quindi poi gli ha somministrato altri farmaci a endovena perché stava male e poi devo dire la verità è stato un angelo quella dottoressa perché comunque mi ha rassicurato anche a me mi ha aiutato perché ero in preda al panico più totale il bambino non era mai stato così male? no, così male no ha avuto crisi respiratorie in passato ma mai una crisi così forte dottoressa, questo intervento non sarebbe stato possibile con la sua presenza di un infermiere? assolutamente no nulla da togliere agli infermieri però è veramente un atto medico di un medico che è stato bravo la signora ve l'ha illustrato ampiamente se l'ambulante doveva venire da Isernia o ancora peggio da Agnone anche se in genere noi verremo a Venafro da Agnone perché Isernia c'è un territorio vasto ed è in genere sempre impegnata ci sarebbe voluta un'ora e la signora non stava qua a parlare con noi il riferimento della dottoressa è alla decisione dell'ASREM di demedicalizzare quella postazione a partire da stasera alle 20 a Venafro nelle ore notturne non ci sarà più il medico del 118 rimarranno l'infermiere e il soccorritore guidati negli interventi dalla centrale operativa il medico distanza al Santissimo Rosario dopo la protesta di Agnone trasferito al San Francesco Caracciolo perché ha deciso di raccontare la sua storia? perché io voglio aiutare anche altre persone perché io questa notte ho visto che mio figlio stava morendo e allora chiedo e dico vi prego con il cuore fate scelte giuste ma con il cuore non pensate all'aspetto economico a tante altre cose ma pensate alle vite dei bambini delle persone in difficoltà e mentre siamo ancora all'interno della postazione del 118 arriva un'altra chiamata un altro codice rosso un uomo di 49 anni sta avendo un infarto aspettiamo Isernia ma Isernia è sempre impegnata perché c'è un territorio basso è in corso una chiamata per un codice rosso? sì assolutamente sì il mio collega fortunatamente che sta in sé può correre a fare il codice rosso se fosse arrivata stasera questa chiamata? beh non c'era il medico che poteva andare non c'è un arresto cardiaco ecco a rischio 49 anni vai e non c'è un pronto soccorso un punto di primo intervento chiariamo ad Agnone c'è un pronto soccorso H24 dottoressa che cosa accadrà in questa postazione del 118 del Santissimo Rosario di Venafro a partire dalle 20 di stasera? il mio collega chiuderà la porta rimarrà a disposizione dei cittadini e dei pazienti l'autista il soccorritore e un infermiere con tutto quello che ovviamente ne concerne perché ovviamente un infermiere non può sostituire la presenza del medico noi auguriamo non solo ai venafrani anche tutto il territorio venafrano che è molto vasto noi serviamo probabilmente 20.000 pazienti di stare bene di stare bene perché se saranno male non ci sarà nessuno che in tempi rapidi rapidissimi come è successo l'altra notte al bimbetto li potrà soccorrere o come è successo 10 minuti fa dove il mio collega è dovuto andare su un arresto cardiaco un arresto cardiaco ecco lì e proprio a proposito del pronto soccorso di Venafro è notizia dell'ultima ora che il sindaco Ricci e l'amministrazione comunale di Venafro rinunceranno all'indenità per pagare i turni notturni del medico della postazione del 118 del Santissimo Rosario i rappresentanti dell'amministrazione hanno preso questa decisione per garantire che la postazione di emergenza non venga demedicalizzata durante le ore notturne così come deciso negli ultimi giorni dall'ASREM e brutta sorpresa per la squadra di volley femminile Under 14 del Castel di Sangro che giovedì sera si era recata con il furgone educato della società al Palairino per disputare l'incontro con la Termoli Pallavolo all'uscita dal palazzetto però le giovani pallavoliste si sono rese conto che il mezzo con cui avevano raggiunto la loro destinazione e col quale avrebbero dovuto fare rientro a casa era stato rubato il furto è avvenuto in via Erino dove due giorni prima era già stata rubata una Fiat Punto Pasqua e Pasquetta senza guardia medica negli orari notturni a Isernia la sanità è in condizioni drammatiche il presidente della commissione sanità al comune di Isernia Alex Paniccia si dice seriamente preoccupato una Pasqua drammatica per la sanità in provincia di Isernia con guardie mediche che nel capologo pentro non garantiranno il servizio notturno e con la postazione del 118 di Venafro demedicalizzata a partire dalle 20 di sera e fino al mattino tutto questo mentre in provincia sono arrivati numerosi turisti e tanti lavoratori e universitari fuori sede hanno fatto ritorno a casa ci troviamo davanti alla guardia medica di Isernia come potete vedere questo è il cartello l'avviso dell'ASREM in cui ci sono scritti gli orari e anche i turni scoperti e anche dove rivolgersi in caso di necessità noi abbiamo chiesto informazioni ai medici presenti questa mattina qui all'interno della guardia medica che ci hanno detto che effettivamente c'è una carenza di personale generalmente sono 8 i medici in servizio ma addirittura c'è anche qualche problematica legata ad alcune unità che al momento non sono disponibili e quindi per questo motivo alcuni turni restano scoperti le notti del 9 e del 10 aprile dunque la sede del centro storico rimarrà chiusa se si volesse contattare telefonicamente un dottore non risponderà a nessuno chi ne avesse bisogno dovrà rivolgersi alle guardie mediche dei paesi limitrofi le postazioni mediche degli altri centi in provincia di Isernia però non sono direttamente collegate al centralino ASREM quindi un cittadino che accusa un malore dovrà prima trovare il numero della guardia medica più vicina e sperare che non si sia impegnata in un altro intervento una situazione che ha davvero del paradossale se si considera che anche il 118 funzionerà in modalità ridotta con la demedicalizzazione della postazione di Venafro le uniche due ambulanze con medici a bordo quelle di Isernia e Agnone devono sopperire a tutte le chiamate in particolar modo ai codici rossi senza guardia medica e con il servizio di emergenza urgenza ridotto all'osso se qualcuno dovesse sentirsi poco bene sarà costretto a rivolgersi direttamente al pronto soccorso di Isernia reparto che però già deve fare i conti con file chilometriche e problematiche di ogni genere seriamente preoccupato per quanto sta accadendo il presidente della commissione sanità del comune di Isernia Alex Paniccia nonostante le tante promesse che sono state fatte nel corso degli ultimi sei mesi del 2022 che parlavano di fondi della missione del PNRR di 50 milioni di euro che dovevano arrivare dell'importanza della sanità territoriale di un territorio a detta del commissario presidente che doveva essere in grado di essere resiliente dimostrare questa resilienza in una sanità che era pronta a funzionare assistiamo a quelle che sono solo e soltanto delle promesse che sono rimaste nel vuoto è sicuramente una situazione complessa perché scontiamo la carenza di medici all'interno del nostro territorio ma lasciare scoperta un presidio come quello di Isernia è una questione veramente complessa e difficile anche rischiosa da un certo punto di vista perché vuol dire portare ad ingolfare quelli che sono praticamente già sappiamo come leggiamo dalle pagine di tutti i giornali spesso risentono del numero eccessivo di accessi rispetto al personale che invece hanno per gestire le quotidiane emergenze che si devono ad affrontare sul fronte della sanità si deve fare di più un invito rivolto anche alla stessa amministrazione comunale io mi auguro e spero che e ne sono convinto che anche il sindaco si stia attivando per affrontare questa questione specifica anche perché sono convinto di una cosa che in generale quando prendiamo posizione non sbagliamo mai probabilmente perdiamo qualche consenso ma se non la prendiamo rischiamo di perdere la cosa più importante che è noi stessi il sindaco di Ururi Laura Guerra ha disposto con apposita ordinanza il divieto di consumo su tutto il territorio comunale dell'acqua destinata al consumo umano proveniente dalla condotta idrica come bevanda per la preparazione di cibi confermando però l'utilizzo per l'igiene personale e dei locali l'ordinanza a seguito del campionamento dell'ARPA presso la fontana pubblica in Viale Padre Pio che evidenzia una parziale difformità dei valori in relazione ai parametri di riferimento nei prossimi giorni come da procedura sono in programma ulteriori campionamenti da parte dell'ARPA in altre aree comunali e adesso la politica ascoltiamo l'intervista del direttore Enzo Di Gaetano a Michele Di Bartolomeo presidente di Molise al centro Michele Di Bartolomeo ha lanciato il suo movimento Molise al centro un movimento che con quel nome è già un programma insomma un'ipotesi di mediazione tra i vari schieramenti tra le varie ipotesi un'ipotesi di centro come una volta Michele Di Bartolomeo assolutamente sì è un progetto che avevamo avviato già con il mio defunto papà insieme ad alcuni amici avevamo messo nel cassetto che oggi abbiamo ripreso anche su sollecitazione degli stessi amici con i quali eravamo partiti e di altre persone che ci hanno chiesto proprio di metterci in gioco Molise al centro è proprio questo riportare il Molise al centro della politica riportare i molisani al centro della politica stiamo assistendo a una serie di personalismi a destra e a sinistra voglio fare questo noi abbiamo fissato tre punti programmatici innanzitutto il simbolo è un chiaro riferimento all'emblema della regione Molise allo scudo della regione Molise per cui primo punto l'autonomia regionale noi battiamo molto su questo punto secondo punto sicuramente che è quello più importante la sanità noi immaginiamo una sanità sicuramente pubblica con il supporto del privato con il supporto forte dell'università quindi immaginiamo magari un policlinico regionale universitario supportato dalle strutture di eccellenza che non sono solo neuromedo fondazione gemelli che comunque hanno una rilevanza che va oltre i confini regionali ma abbiamo tante piccole strutture dislocate sul territorio molisano che pure negli anni hanno supportato la sanità pubblica e poi lo sviluppo parlare di autonomia parlare di sanità passa necessariamente per uno sviluppo sostenibile sicuramente infrastrutture c'è bisogno di una strada di collegamento importante che faccia uscire le aree interne dall'isolamento in cui si trovano per cui sviluppo ingloba un po' tutto per cui tre temi sono collegati tra loro e con lei come si pone in questo Molise così diviso così fazioso così spaccato questa proposta di mediazione per avere successo con chi si deve alleare che cosa dove guardate voi insomma il vostro obiettivo politico qual è? Allora noi siamo abbiamo osservato un po' quello che è successo in Italia e quello che sta succedendo nelle altre regioni d'Italia c'è un astensionismo da paura il nostro Molise non si può permettere di avere questo livello di astensionismo noi vorremmo essere attrattivi di quella parte di popolazione che non si vuole regare alle urne perché stufa di questo modo di fare politica allora noi non vogliamo sottrare voti al PD non vogliamo sottrare voti ai 5 Stelle non vogliamo sottrare voti a Forza Italia o a Fratelli d'Italia o al centro-destra noi vogliamo attrarre quella parte di elettori che si sente scontenta che si sente sfiduciata per cui vogliamo mettere la nostra faccia il nostro cuore la nostra testa perché abbiamo capacità competenze da mettere in campo per questo nostro Molise facce nuove giovani imprenditori donne chi volesse avvicinarsi a questo movimento noi siamo aperti a tutti e poi quando si dovrà scegliere tra centro-sinistra e centro-destra di Bartolomeo che farete o ancora non avete deciso noi abbiamo deciso una cosa tra di noi quella parte di quegli schieramenti che vorranno confrontarsi con noi su questi tre punti programmatici che poi credo debbano essere gli spunti per tutti gli schieramenti che scenderanno in campo ci vedranno dialogare e quelli che ci soddisferanno di più insomma vedranno il nostro apporto e ieri le celebrazioni del venerdì santo la processione a Campobasso è tornata ai numeri pre-covid 700 cantori diretti dal maestro Antonio Colasurdo hanno accompagnato Gesù morto tra due ali di folla commossa migliorare la sanità del Molise e l'appello del Vescovo al termine del suo intervento davanti al carcere di Campobasso Francesco Adamo la collettività tutta di Campobasso si estretta intorno alla processione del venerdì santo un lungo corteo partito dalla chiesa di Santa Maria della Croce prima attraverso le suggestive strade del centro storico e poi lungo via Mazzini la stazione ferroviaria Corso Bucci e le vie del centro murattiano quest'anno la processione è tornata sul percorso classico e con il massimo dei partecipanti così com'era prima del covid già l'anno scorso Campobasso poter riappropriarsi della processione del Tecovorrei mentolo minore con una processione più corta e con un coro meno numeroso quest'anno finalmente la processione al completo 700 cantori diretti dal maestro Antonio Colasurdo tutti vestiti di nero gli uomini da un lato le donne con il capo velato dall'altro avanti tenori e soprani dietro bassi e contralti accompagnati da 100 musicisti durante il percorso il coro è intonato più volte lo struggente coro del Tecovorrei composizione del maestro Campobassano Michele Di Niris su versi di Pietro Metastasio fra i momenti più toccanti la sosta davanti al carcere di via Cavour dove è stata recitata la preghiera del detenuto è toccato a Martin giovane di origine albanese rivolgere l'appello ancorato alla Madonna una preghiera toccante a cui ha fatto seguito la benedizione del vescovo Bregantini al culmine del suo intervento il vescovo ha fatto un appello a migliorare la sanità del Molise oltre ad avere un pensiero per le guerre soffermandosi sulla guerra in Ucraina definita inutile strage la processione quindi dopo aver percorso il corso Vittorio Emanuele senza mai sospendere il coro del Tecovorrei si è fermata in piazza prefettura dove la processione si è sciolta per motivi di precauzione sanitaria e a seguito dell'allarme terremoto della scorsa settimana il coro con i suoi 700 partecipanti non ha terminato di cantare nella chiesa di Santa Maria della Croce e a Diserni invece in occasione del Venerdì Santo la processione degli incappucciati un evento che spregiona sempre tante emozioni c'è chi ha percorso anche 6.000 chilometri per prendere parte al rito religioso sono di Sernia quest'anno sono 40 anni che faccio il naziere però gli ultimi 26 vengo dalle Canarie perché nel 97 mi sono trasferito per lavoro quindi continuo ad avvenire 3-4 volte sarò mancato in 40 anni per motivi di salute o di lavoro però considera che sono 6.000 chilometri non è poco come lui in tanti hanno preso parte alla processione del Venerdì Santo a Isernia quest'anno sono stati 167 gli incappucciati che hanno sfilato nel corteo religioso le statue del Cristo morto e della Madonna addolorata sono uscite come di consueto dalla chiesa di Santa Chiara insieme alle 4 confraternite al vescovo Cibotti e ai rappresentanti del clero della diocesi protagonisti ovviamente gli incappucciati uomini e donne che in segno di penitenza si coprono il voto e portano in spalla una croce il corteo religioso ha sfilato dinanzi a due ali di fedeli presenti lungo tutto il tragitto a notte inoltrata dopo aver percorso gran parte delle strade cittadine il ritorno nel centro storico dinanzi alla cattedrale la solenne Benedizione la processione è stata accompagnata dal coro nel quale anche due piccole noi entri abbiamo due piccole coriste come ti chiamano? Sofia tu fai parte del coro? sì e tu come ti chiami? Giovanna anche tu fai parte del coro? sì un rito quello della processione che unisce tutti un momento di raccoglimento che sprigiona sempre molte emozioni Jessica di quale confraternità fai parte? io Santa Chiara anzi nello specifico il Santissimo Sacramento però spesso la chiamiamo Santa Chiara perché comunque ci ritroviamo tutti qui nella chiesa di Santa Chiara da quante che partecipi a questa processione? da 17 anni ero praticamente piccolissima sono 30 anni che lo faccio quindi comunque è sempre come se fosse la prima volta sì un momento bello un momento di raccoglimento un momento di speranza e anche quest'anno purtroppo ci ritroviamo l'Europa si ritrova nel bel mezzo di una guerra cosa che dispiace spero che anche quest'anno tutti noi abbiamo il coraggio la forza di poter di poter dire ai nostri governanti all'Europa alla Russia all'Ucraina di poter trovare una soluzione a questa guerra nel bel mezzo d'Europa che nessuno vuole un grandissimo augurio di buona Pasqua agli sernini ai molisani e a tutti i cittadini del mondo un augurio sincero di stare in famiglia stare insieme di ricordarsi del prossimo in questa occasione emozioni e grande partecipazione anche alla processione del Cristo morto tra le vie del centro storico di Venafro adagiato sanguinante su un letto di orchidee bianche esce dalla cappella di un ospedale morente a Venafro è partita da lì la processione del Cristo morto ieri pomeriggio ritornate le emozioni e la grande partecipazione popolare all'evento religioso più sentito del venerdì santo il silenzio profondo e costante ha donato ulteriore intensità ad un evento che ha toccato sia il centro storico che la parte moderna della città la prima tappa forse la più suggestiva all'interno della cattedrale a seguire la discesa di via Duomo piazza Merola le piazzette delle chiese di Cristo e dell'annunziata via Redenzione e attraverso il rione del mercato Corso Garibaldi fino a Portanova per il messaggio del vescovo Monsignor Camillo Cibotti il rito terminato lì da dove aveva preso il via dal martoriato ospedale il GAL Molise Rurale ha reso noto che sono state pubblicate le due graduatorie relative agli avvisi investimenti sulle infrastrutture pubbliche di piccola scala che vedono beneficiari rispettivamente il comune di Frosolone in partenariato con quello di Macchiagodena e il comune di Carpinone i progetti presentati dai comuni in questione riguardano il miglioramento dell'efficienza della rete idrica rurale sulla montagna di Frosolone Macchiagodena e Carpinone ad oggi possiamo essere soddisfatti del risultato raggiunto che consentirà ai comuni di Frosolone Macchiagodena e Carpinone risolvere in parte i problemi derivanti da una rete idrica obsoleta che attualmente versa in pessimo stato d'uso e manutenzione ha precisato l'assessore Nicola Cavaliere che ha sollecitato il GAL Molise Lurale al fine di indirizzare le risorse necessarie per i territori di competenza alla riqualificazione dell'acquedotto rurale montano nel rispetto del piano di sviluppo locale già approvato dalla regione molise e nel basso molise invece la rete idrica registra notevoli danni all'aduttore centrale del Liscione con conseguenti perdite di acqua che richiedono un intervento di manutenzione importante vanno raddoppiati i turni di lavoro al fine di ridurre le giornate di sospensione dell'erogazione idrica L'assessore regionale all'agricoltura Nicola Cavaliere Bacchetta Molise Acque rimarcando la necessità di acqua per le aziende agricole e di questi giorni la notizia delle grosse perdite di acqua che si registrano nelle piane di Larino per i gravi danni all'aduttore centrale riguo industriale del Liscione con conseguenti perdite di acqua che richiedono un intervento di manutenzione importante questo si legge in una nota dell'assessore regionale dell'agricoltura Cavaliere conscio di come situazioni del genere non possono essere gestite con tempistiche lunghe perché in questo modo si aumentano i danni sia per la perdita di acqua nel terreno sia per le riparazioni che porterebbero alla sospensione del servizio per le aziende agricole ha informato di aver chiesto alla governance di Moliseacque di organizzare i lavori programmati raddoppiando i turni di lavoro al fine di ridurre drasticamente le giornate di sospensione dell'erogazione idrica è impensabile chiudere i rubinetti per tanti giorni e i nostri imprenditori ha commentato l'assessore e creare danni alla produzione agricola in un periodo così delicato da Moliseacque intanto rileviamo la situazione degli invasi in prospettiva della prossima stagione estiva a marzo nonostante il prolungato periodo di siccità il livello dell'acqua nell'invaso della diga dell'iscione nella zona di Guardarfiera è rimasto presoché invariato rispetto al mese di gennaio 11 metri al di sotto di quello massimo assoluto per quanto riguarda l'altro invaso della diga di Occhito al confine fra Molise e Puglia fa segnare in base ad una rilevazione del consorzio per la bonifica della capitanata di Foggia una disponibilità idrica di quasi 211 milioni di metri cubi d'acqua uno in meno rispetto ad un anno fa ogni giorno in Italia poco meno di due sportelli bancari chiudono definitivamente i battenti e con essi oltre 15 dipendenti perdono il lavoro e il Molise la regione italiana ad evidenziare i dati più preoccupanti a lanciare l'allarme è uno studio della Fisac CGL elaborato sui dati di Banca Italia secondo cui lo scorso anno le filiali sono diminuite di 664 unità passando da 21.650 nel 2021 a 20.986 nel 2017 di conseguenza il personale bancario nel 2022 è calato di 5.647 unità in termini percentuali la riduzione degli sportelli bancari ha fatto registrare in Molise un meno 31,9% e queste erano le notizie di oggi adesso vediamo il meteo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino previsioni per oggi sabato 8 aprile per la giornata odierna il tempo sarà contrassegnato da instabilità che si estenderà per tutta la giornata portando precipitazioni su tutta la regione tranne che in prossimità della costa neve attesa oltre 1300 metri di quota venti dai quadranti meridionali mare poco mosso temperature Campobasso minima 1 massima 11 Sernia minima 3 massima 10 Termoli minima 8 massima 13 Venafro minima 4 massima 11 previsioni per domani domenica 9 aprile per la giornata di domani è atteso un temporaneo miglioramento per la prima parte della giornata dalla sera tuttavia un fronte in arrivo da ovest porterà ad un incremento della nuvolosità con associate precipitazioni anche a carattere temporalesco venti in rotazione dai quadranti settentrionali mare molto mosso temperature Campobasso minima 3 massima 11 Sernia minima 3 massima 14 Termoli minima 10 massima 12 Benafro minima 4 massima 16 si conclude anche questa edizione del nostro Tg grazie per averci seguito buona giornata grazie per aver guardato